Alla fine si sono arresi quattro sindaci che per settimane si sono posti al patto per il trasporto pubblico locale, cercando di evitare il contributo economico da parte di ogni comune per garantire il servizio di autobus e corriere. I sindaci Jonathan Papamarenghi di Lugagnano, Gabriele Girometta di Corte Maggiore, Marco Bricconi di Cadeo e Roberta Battaglia di Caorso hanno sottoscritto oggi l'adesione insieme agli altri 44 primi cittadini del territorio. Ma i toni della discordia rivolti all'amministrazione provinciale, a tempi agenzia e a seta non si placano e i sindaci uniti gridano contro quello che hanno definito un vero e proprio ricatto.